Allora, buon pomeriggio, direzione Monte Barigazzo. 1.284 metri di quota, Italia Eco Romeo 310, cartello del CAI mette un'ora e 45, forse andando a marci indietro e niente di impegnativo come sentiero. La zona poi vedremo su in vetta, molto molto comoda. Allora è l'unica cima sotto in zona, almeno fra quelle che conosco io, dove in vetta hai tavolino e panchina. Quindi è decisamente comodo fare stazione lassù in alto. E iniziamo questa bella camminata. Ah, per non parlare solo di radio. Quando vedete questo in mezzo al sentiero è volpe. Perché la volpe ha l'abitudine di lasciare le sue tracce, proprio a marcare il territorio, in mezzo ai sentieri, negli spazi aperti. Stessa cosa fa il lupo, anche se le dimensioni degli escrementi sono un pochettino più rilevanti. E più che altro dentro si trovano osse e peli ben visibili. Questo per non parlare sempre solo di radio. Ecco, questa qui potrebbe essere di lupo. Molto probabilmente questa è di lupo. Ma che le chiamano fatte? Molto probabilmente questa è di lupo. Molto probabilmente questa è di lupo. Molto probabilmente questa è di lupo. dicevamo la tabella giù in fondo dicevo 1 ora e 45 sono a metà strada 13 minuti e mezzo quelli del CAI secondo me vanno sui retromargin ridotti oddio si può fare anche più piano ecco questo è un passaggio che se uno minimamente soffre di vertigini potrebbe essere un problema l'importante è ricordarsi la regola fondamentale da 10 metri in su è tutto uguale se cadi è uguale non è che ci siamo delta lima uber delta lima 8 delta x-ray siarra is correct delta lima 8 delta x-ray lima 5 5 5 5 ok roger number two eco zero eco sugar yankee stand by please delta lima 2 over delta lima 2 kilo lima 5 9 your report a real 5 9 back to you thank you to you my friend roger roger oscar november 4 charlie bravo oscar november 4 charlie bravo 5 9 io le porte 5 9 back to you buongiorno italia zealanda 1 giuliette chi l'hotel 59 qsl 6 5 5 5 5 5 5 5 a torre a peli di provincia di torino mi nome è Valterai grazie per la referenza forza buona giornata buona attivazione ciao ciao 73 gli ultimi momenti dell'estate ciao ciao grazie ancora roger eco alfa 2 delta delta golf x-ray roger 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 eco alfa 2 delta delta golf e tu report 4 1 4 1 muy bajito thank you my friend your report is a 5 9 real 5 9 qrp station only 5 watt only 5 watt my name alessandro back to you golf 4 whiskey sierra bravo over thank you to you my friend the golf floor whiskey sierra bravo thank you bye bye and 73 your report is a 5 7 5 8 5 7 5 8 qsl roger fox rod 4 whiskey bravo november 5 9 qsl yes qsl thanks for 5 9 good afternoon you also 59 roger 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 mio friend thank you Roger, 2 Echo Zero, Alpha Golf, bravo, 2 Echo Zero, Alpha Golf, bravo, 5 e 5 il report, QSL. QSL my friend, many many queer Messico today, many many queer Messico, thank you my friend, bye bye Kilowatt X-ray, over. Echo Alpha 2, Charlie Kilowatt X-ray, is correct? QSL, my friend, 5 5 your report, 5 5, thank you, bye bye.